Buongiorno signori e signore, abitanti di tutto il pianeta. Oggi sette apprendisti maghi guidati da due druide, tra cui la famosissima druida Shata Ala, hanno raccolto gli ingredienti per preparare la pozione magica per la prosperità del mondo. Durante questo video vi diremo tutti gli ingredienti della pozione magica, ma attenzione, noi vi sveleremo tutti gli ingredienti, a parte uno, l'ingrediente magico di Campanara. Non vi sveleremo questo ingrediente, poiché funziona solo qui, ma appunto ognuno di voi dovrà trovare il proprio ingrediente. Più persone si diletteranno in questo rituale, più la magia sarà potente per tutto il mondo. A brindi vomus, a brindi vomus, a brindi vomus, catus capillus, maus in venis. Una foglia di partano, una foglia di partano, una foglia di partano, un rametto di alloro, rosmarino di alloro, un rametto di alloro, un rametto di rosmarino fiorito, un salvia rossa, gentile di alloro, devo farlo, ricongoro di alloro, uno rametto di indipidido, un rametto di consiglio, un rametto di riservo, rossa, e ecco, Una salchia verde Un glicine Viola Tasso barbasso Finocchietto Finocchietto Un cardo Un petalo di tulipano Per vinca E infine Un fiore di melo Perché Ho la magica Adesso l'ingrediente segreto No, no, no Cosa vuoi? Ma face le vede? Non ce le più! Ma face le vede? Sto ancora facendo! E' ancora facendo! Gatti! Gatti! Vai! E' che il triggio! E' che il triggio! E' che il triggio! Gatti! Gattos, capillus, maus in mei Cordiali saluti dall'Accademia Magica di Campanara Speriamo che molti di voi compieranno il rituale sacro